Tre principi per raccogliere il grido dei poveri e del creato sono quelli indicati da Papa Francesco nell'incontro con i ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea. L'ambiente ricorda un bene collettivo, patrimonio dell'intera umanità e responsabilità di ognuno di noi. Pertanto, si richiede un'efficace collaborazione all'interno dell'intera comunità internazionale in vista della riunione COP21 di Parigi, prevista per fine mese. Il Papa parla della solidarietà verso i poveri, più vulnerabili al degrado ambientale e di la necessità di mettere in atto strumenti efficaci per contrastare sia la povertà che lo stesso degrado. Insiste sul principio di giustizia riferendosi agli squilibri tra nord e sud, al debito ecologico di cui parla nella Laudato Si. Invita a favorire nuovi stili di vita, improntati e allo sviluppo sostenibile. Infine Francesco esorta la partecipazione al dialogo tra le parti per una nuova ecologia integrale. L'invito del Papa è soprattutto di rispondere adeguatamente tanto al grido della terra quanto al grido dei poveri.